Ciao tigrottine, ciao tigrottini! Sono troppo contenta perché questo video l'ho cercato veramente tanto dappertutto e sono felicissima di averlo trovato ed è il Disney Tag. Io essendo una disneyana, come molti di voi sapranno, l'ho cercato tanto perché semplicemente ho voglia di mostrare tutta la mia devozione alla Disney e quindi ho trovato questo tag veramente carino, ovviamente americano perché gli americani fanno i tag più belli, questo si sa, e quindi mi sono fregata le domande, ho trovato le traduzioni e adesso ve lo faccio tutto per voi! Iniziamo subito! Allora, domanda numero uno, alcune domande parlano di Disneyland, quindi le salterò perché non ci sono state. Sfigata, ci sono andati tutti, tipo all'elementario ogni tre secondi una partiva per Disneyland e io no, bello! Allora, iniziamo subito se non mi ne primo. Una scena Disney che vorresti provare? Sicuramente questa ce l'ho pronta, volare con Peter Pan, a parte perché io amo Peter Pan, amo proprio quel tipo, quel ragazzo meraviglioso che non vuole crescere, però tipo volare, a parte lui vorrei anche volare, io adoro volare, fin da piccola volevo provare l'emozione del volo, non mi buttavo dalla finestra, però sognavo un giorno di riuscire a volare e quindi sicuramente queste due cose coincidono e volerei con Peter Pan. Mi piacerebbe veramente tanto. Poi, domanda numero due, no, parla di Disneyland, quindi no, scherzavo. Domanda numero tre, quale canzone o canzoni non Disney ti fanno ricordare qualcosa della Disney? Allora, parlo scioglilingua, delle canzoni non Disney che mi fanno pensare alla Disney, sicuramente Favola di Modà, già lo dice il nome, perché parla di un principe e di una principessa e non so perché mi sa tanto di Aurora con il principe, non lo so perché, quindi ce lo vedo veramente tantissimo bene e quindi sì. E poi Roar, il libro della giungla, si ce li vedo, il libro della giungla, non mi ricordo se è proprio Disney, speriamo di sì, se no sai che figura, comunque Roar ce lo vedo, in generale ce lo vedo, Favola di Modà e queste due, insomma sono quelle che forse vedo un po' di più indirizzate. Domanda numero quattro, quale è stata la prima volta che sei stata a Disneyland? Non ci sono stata. Domanda numero cinque, se potessi scegliere un qualsiasi personaggio Disney come miglior amico, chi sceglieresti? Anche queste ce le ho pronte. E sono quattro personaggi di Mulan, sicuramente i tre cavalieri, no cavalieri, i tre guerrieri grecini, di quanto sono belli, quelli che si sposano le tre principesse in Mulan 2, io li adoro, li amo, sono troppo simpatici e quindi me li prenderei e loro come miglior amici sarebbe troppo bello. E Musu, Musu forse ancora di più perché ho sempre desiderato avere un amico come Musu, volevo essere Mulan solo per avere Musu come amico, Musu e l'insettino sono veramente troppo troppo belli, quindi adoro Musu e Musu vince tutto, quindi se devo rispondere solo con un nome, Musu, Musu forever. È troppo bello, c'è chi non ama Musu. Va bene Elena, continua. Allora, domanda numero sei, qual è la tua principessa Disney preferita? In assoluto Belle, Belle è la mia principessa Disney, io sono Belle, io mi reputo Belle, non perché gli somiglio, perché non sono bella come Belle, però semplicemente perché abbiamo un carattere molto simile, il modo di pensare è molto simile, è molto delicatuccia, femminile come me, molte mie amiche mi dicono che sembro troppo femminile, ha tipo la voce come me, cioè come me proprio no, però tipo il... un bel po' di cose, a parte la voce abbiamo proprio il modo di pensare uguale, e poi Belle mi ha sempre appassionato fino a quando ero piccola, il cartone della Belle e la Bestia mi ha accompagnato forse tutta la vita, quindi assolutamente Belle, io la amo, e Belle è la mia principessa preferita per tantissimi motivi, e così. Ah, poi tornando alla domanda prima, che miglior amico vorresti avere della Disney? Vorrei avere anche Kimono e Pumba, perché c'è Kimono e Pumba, miei, sta pagando il cellulare, eh, shh, non le dita nessuno, e quindi sì, assolutamente Kimono e Pumba perché sono troppo belli, troppo belli. Domanda numero 7, parla di uno scena o di un momento, di un film Disney, che ogni volta non manca di farti piangere, a Pocahontas, quando muore lui, io lo amo, a parte che è bellissimo, ed è un momento che veramente mi emoziona troppo, quando muore la mamma di Bambi, suona il telefono di mio padre, voi fate finta di niente, quando muore la mamma di Bambi, che è un momento che veramente, fium, scoppio, scoppio, se scoppio, scoppio, e quindi diciamo un po' tutti i finali. Maleficent, la parte finale di Maleficent, quando all'inizio Aurora non si sveglia, poi Maleficent la basa, e Aurora si sveglia, se non avete visto Maleficent, scusate nello spoiler, mi voglio bene, e quindi questo momento è anche molto emozionante, diciamo, dei classici di adesso. E poi mi sono emozionata tantissimo a vedere Scelerantola, quello nuovo che hanno fatto, che è sempre della Disney, quindi lo dico, e mi sono emozionata tantissimo quando moriva la madre, quando è morto il padre, nel finale. Era una serie di emozioni quel film, quindi veramente bella, anche quello straconsigliato. Andiamo avanti, numero 8, Qual è stato il primo film Disney che ti ricordi di aver visto? Sicuramente è stato O Celerantola o O Celerantola o Biancaneve, ora non mi ricordo. Credo sicuramente Biancaneve, perché sono, diciamo, i primi in assoluto, io ho visto quelli, delle cassette, proprio di tanto tempo fa, perché sono molto vecchia, e quindi, no, vabbè, li vedevo nelle cassette, avevo il lettore delle cassette, li vedevo là, e credo sia stata proprio Biancaneve, il primo in assoluto che ho visto, e mi sono anche lì, innamorata di Biancaneve, del Principe e dei Sette Rani, e il mio nano preferito era Cucciolo, sempre stato Cucciolo, perché è troppo Cucciolo. Va bene. Domanda numero 9, Qual è il tuo film Disney preferito? E ce ne ho anche un po' troppi. Allora, sicuramente Mulan è uno dei miei preferiti in assoluto, per tanti motivi, Frozen, troppo bello, mi piace tantissimo Frozen, e poi un altro che stramo alla follia, oh mio Dio, ce ne sono troppi, come faccio a dirne un altro solo? Vabbè, diciamo, in generale tutti, ma soprattutto Mulan, i due Mulan, tutti e due bellissimi, Frozen, che è molto bello, e poi La Bella e la Bestia, questi sono tra i miei preferiti. Ah, un altro che è stravo, poi vi giuro la smetto, è Hercules, Hercules è uno dei miei film preferiti della Disney in assoluto, perché l'ho sempre amato, Hercules mi è sempre piaciuto tantissimo, io sono innamoratissima di quel cartone Disney. Poi, 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 cioè, veramente è finito, sono finite le domande, ah, andiamo bene, c'è la, ne aggiungo una, canzone Disney preferita, ve la dico velocementissima, a parte che ce ne sono una caterva, Il Cerchio della Vita del Leone, Mulan, Sarò un uomo, e, Hercules, oddio, oddio, mi sta accadendo pure la batteria, una canzone bellissima di Hercules, che vi lascio qua, e niente, queste sono tra le più belle, tra quelle che amo di più. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grossissimo bacio, e niente, ciao!